All'attivo tra i titoli mondiali di kickboxing, oggi Gloria Peritore, 34 anni siciliana dedicata ma romana ad adozione, pensa alla sicurezza delle altre donne. Dice la decisione di dedicarmi al kickboxing è il frutto di un passato difficile dopo essere uscita da una relazione tossica, mi sono sentita fragile, un periodo buio della mia vita del quale non parlo volentieri, ma questa disciplina mi ha aiutato psicologicamente e fisicamente, hai un'altra sicurezza se dovessi subire altre aggressioni, da un uomo so che sarai capace di reggere l'impatto e il panico che ti assale in quei momenti, avrai una chance in più. Da sabato la campionessa sarà al San Gabriel Gymnasium in piazzale Marcellino Champagnat all'Euro all'incontro Fight the Violence che avrà come testimonia Luigi Busà, oro olimpico di karate.